ciao ragazzi volete fare una giornata di run and climb sulle vostre montagne preferite e vi do alcuni punti che potete prendere come in considerazione per fare questa giornata al meglio divertirvi in sicurezza prima di tutto conoscete il posto se non conoscete già a fondo il posto è importantissimo documentarvi se volete informazioni sulle ferrate sul difficoltà la loro scheda tecnica quando è meglio farle via dicendo ferrate 360 è il sito che fa per voi li troverete tutte le informazioni tecniche difficoltà descrizioni come raggiungere le che vi serviranno per poter affrontare questa esperienza di sicurezza wiki lock è un altro risorsa fondamentale che vi aiuta a vedere quali sono i percorsi anche di avvicinamento quali possono essere i percorsi migliori per arrivare sulla sulla ferrata in sicurezza i più panoramici con la descrizione i tempi di percorrenza il livello di difficoltà e tutte quelle informazioni foto che possono servire per arrivare il più documentati possibili per possibile per fare questa esperienza in sicurezza poi google youtube su google e su youtube potete anche fare una ricerca della ferrata del percorso in modo che potete vedere anche le esperienze di altri runner o scalatori o escursionisti che hanno fatto questa la ferrata che avete in programma potete anche vedere tramite i video quindi le difficoltà i punti più belli o le cose su cui è importante essere attenti e per non trovarsi poi preparati a trovare punti troppo difficili per le vostre capacità il il meteo fondamentale il meteo non partite mai in montagna senza sapere quelle che sono le condizioni meteorologiche soprattutto in questo periodo che possono essersi nevicate piogge vento forte freddo necessario guardare l'evoluzione magari durante la settimana anche nei giorni seguenti del nella località che avete scelto per andare a visitare e questo vi serve per non trovarvi poi impreparati in caso di ghiaccio in caso di freddo in caso di di pioggia in caso di nubi basse un altro cosa importante è non sovvalutare non sovvalutate mai le vostre capacità in montagna arrampicandosi facendo anche un po di ferrate è diverso rispetto a fare il trail running già lo sky running è un livello in più di difficoltà arrampicarsi su piccole pareti con difficoltà anche di primo e secondo grado per chi non non è abituato potrebbero creare problemi soprattutto in discesa in percorsi non attrezzati dove è sempre molto facile spaventarsi bloccarsi o ancora peggio non essere in grado di affrontare una discesa in sicurezza a causa del della roccia che caratteristica del percorso che state facendo quindi attrezzatura e anche qui l'attrezzatura tecnica ha un valore fondamentale prima di tutto se andate in ferrata vi serve casco imbrago e le longe da ferrata adeguate omologate all'ultima normativa europea quindi non affidatevi tanto sulle fai da te su queste su queste attrezzature rivolgetevi a un centro specializzato che vi può indicare quelle che sono le i materiali migliori anche per farvi risparmiare un po magari se siete alle vostre prime esperienze però almeno non rischiate di prendere cose che poi invece di mettervi in sicurezza vi creano impaccio e nel momento del bisogno poi magari non sono neanche adatte ricordatevi sempre di portare oltre al materiale obbligatorio della ferrata obbligatorio per la vostra sicurezza portate anche un telotermico non si sa mai cosa può succedere non si sa mai il tempo che magari avete preventivato per una qualche difficoltà si può allungare anche di tante ore e rimanere fredde fermi e nella stagione autunnale e invernale non è come l'estate bisogna avere gli indumenti e le protezioni adatte anche al freddo quindi telotermico nello zaino mettete qualcosa di pesante una giacca un antivento una giacca pesante in più un pile luce frontale di in autunno inverno fa buio prima anche se partite alla mattina una frontale mettete là dentro perché non si sa mai rischiate magari di allungare di molte ore la vostra uscita vi ritrovate dopo il tramonto ancora lontani dal dalla vostra macchina e basarsi solamente nella luce del telefono non è il massimo il telefono telefono carico perché in caso di necessità poter chiamare qualcuno è fondamentale dite a casa o ai vostri amici dove andrete lasciate anche documentazioni storie instagram insomma fate sapere dove siete in modo che in caso di problemi ci sia una traccia di quello che è stato il vostro percorso e le e i soccorsi possono avere un eventuale gli eventuali soccorsi possono avere dei delle tracce importanti sul vostro passaggio quindi ricordatevi vestiti il cibo perché mettete dello zaino anche un po di cibo perché come dicevo se rimanete fermi a lungo o comunque se fate questo tipo di percorsi difficilmente troverete un bar o un qualcosa dove poter mangiare quindi avere delle proprie scorte nello zaino vi permette di avere energia anche per molto tempo soprattutto in caso di bisogno se rimanete molte ore fuori avere delle energie in più per riuscire a tornare in sicurezza è fondamentale acqua come vi ho già detto e questo quanto necessita per organizzare al meglio una piccola uscita un'uscita di una giornata in queste in queste esperienze che erano in climb che vi sto mostrando un po in queste ultime settimane sul gran sasso ciao buon divertimento a tutti